Riapre dopo un sapiente restauro un gioiello storico, artistico e architettonico della città dell'Aquila all'oratorio Sant'Antonio dei Cavalieri dei Nardis in via San Marciano, vicino Piazza Duomo. All'interno, tra i vari tesori di arte barocca non solo, è custodito lo splendido e prezioso organo Luca Neri del 1650. Un organo bellissimo e da suono straordinario, la bellezza ritrovata che l'Aquila vuole celebrare, portando i cittadini all'interno di questo scrigno prezioso. A presentare il tutto, compreso il cartellone musicale predisposto per l'evento, la società dei concerti baratelli, il conservatorio Casella e l'orchestra da camera Gli Archi del Cherubino, che è nato proprio all'interno dell'oratorio. La rassegna musicale per la riapertura dell'oratorio ci sarà dal 10 al 26 giugno e vedrà sei appuntamenti. Ci saranno organisti di fama mondiale come Thomas Hospital e Wolfgang Zerrer. Questo è uno degli spazi architettonici, artistici più belli, più interessanti, più coinvolgenti della città. È uno scrigno ricco di preziosità che vanno assolutamente viste, meditate, bisogna parteciparle. In particolare c'è questo strumento, quest'organo storico datato 1650, attribuito a Luca Neri, che era stato uno dei più grandi organari dell'epoca. Tra l'altro questo strumento è stato oggetto di un primo grande restauro nel 1995, grazie alla sensibilità della famiglia Denardis e quindi del barone che io ringrazio, Angelo Denardis, del quale servo un ricordo straordinario, questo strumento è riuscito a riprendere voce e quindi qui abbiamo realizzato tantissime manifestazioni, incisioni storiche. Qui si sono esibiti tutti i più grandi esperti del repertorio storico su strumenti d'epoca. Tra l'altro questo strumento è anche quello che ha dato un po' il là al restauro che ci sarebbe stato circa 70 anni dopo del grande organo di San Bernardino, il Feliciano Fedeli. Musica sacra del 600 e del 700 animeranno la rassegna con uno sconfinamento nella musica profana con un concerto nel cortile esterno. La rassegna ruota attorno alla festa di Sant'Andeno da Padova del 13 giugno.